Beh, dopo la partenza di ieri, che è stata una partenza veramente fulminante per voi, oggi un'altra buona giornata, anche se comunque non siete più primi. Sì, in effetti oggi c'era meno vento di ieri, quindi era tutto molto più difficile, perché tutte le barche sono più o meno veloci allo stesso modo. In più, in queste condizioni, il vento è abbastanza instabile, quindi a volte da buona a destra, a volte da buona a sinistra, non è facile. E noi, secondo noi, comunque abbiamo fatto una buona giornata, purtroppo oggi in una prova c'è stato il nostro scarto, si spera, e anche domani purtroppo mettono poco vento, per cui saranno comunque regate tutte molto difficili. Devo dire che oggi Flavio è andato molto bene, era l'unico forse che oggi riusciva con così poco vento a fare la differenza di velocità. Però devo dire che anche noi siamo molto contenti, anche perché era tanto tempo che non salivamo in barca, siamo preparati proprio per l'italiano, e quindi la partenza di ieri ci ha dato anche fiducia per tutto il campionato. Siamo vicino al tramonto, tempo giusto per una considerazione. Alla vigilia di questo evento si continuava sempre a pensare, come siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni, al binomio Uca-Uca-Blue Moon. Qui Uca-Uca non c'è, però Blue Moon certo, al momento è primo, ma molto vicino agli avversari. Sembra che ci sia proprio un ritorno ad un livellamento piuttosto omogeneo nella classe. Bah sì, c'è anche da dire che Flavio quest'anno ha fatto un lavoro di sviluppo su vele nuove, e quindi questo lo rende un po' un incognito, nel senso che non sappiamo bene rispetto a Uca-Uca se hanno velocità pari o comunque Uca-Uca ancora superiore. In America effettivamente una l'ha vinta Flavio e una l'ha vinta Rufo, per cui non sappiamo. C'è da dire che comunque in Italia sembra che almeno due o tre barche siano allo stesso livello, per cui c'è da credere che più o meno anche loro siano arrivati a quello che è il livello di Uca-Uca. Prego.